Abbiamo incontrato alla Fondazione X il Presidente Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, pilota e istruttore di volo, con il quale abbiamo voluto parlare dei rapporti non sempre facili tra l'opinione pubblica e i mezzi di informazione da un lato e le forze armate dall'altro. Tutto quello che è militare viene guardato sempre con uno scetticismo che porta sempre a non recepire quelle che sono le motivazioni delle istituzioni e le loro ragioni. Superare questi pregiudizi significa mutare una cultura diffusa. Non si vede neanche la consapevolezza nei decisori, soprattutto negli organi di stampa, che questo è un cammino che va intrapreso e che nel medio e lungo termine potrà portare a dei risultati. Per il caso Schiffer è successo esattamente il contrario, cioè questa ragazza, il suo avvocato ed il padre sono stati gli unici soggetti che mi risulti, per le trasmissioni che ho visto, ascoltati dai giornalisti che hanno costruito questa storia, questa storia di sopraffazione, questa storia di violenza che in effetti non è questo e che è stata ad arte costruita dai soggetti che io ho menzionato e non c'è stato in nessuno, c'è stato solo qualche timido tentativo di qualche giornalista di cercare un riscontro, ma in effetti i riscontri non ce ne sono stati e devo dire che mi risulta che chi vuole ristabilire un equilibrio della pubblica informazione trovi delle difficoltà enormi per avere lo stesso ascolto o perlomeno avere parte in queste trasmissioni e dire anche un'altra verità che è la verità vera. Prima di questa intervista alla RAI era già stata inviata una nota per chiedere il rispetto del contraddittorio delle tesi a garanzia del principio di buona fede e verità nella corretta ricostruzione dei fatti, visto che nel corso di un approfondimento sul caso Schiff, andato in onda in un talk matutino, nulla di ciò era stato garantito. La pubblica informazione ha un ruolo fondamentale e quindi in questo caso è stato indirizzato in maniera contraria all'aeronautica militare, una corretta informazione potrebbe ristabilire veramente un equilibrio informativo nei confronti del pubblico che soprattutto quello che paga il canone, perché qui la RAI ha avuto un ruolo certamente determinante nel mistificare una vicenda. Il servizio pubblico radio televisivo, la RAI non può non rispettare un minimo di deontologia professionale e questo è quello che è successo, purtroppo e non è la prima volta, perché per cose che conosco personalmente, per averle vissute, è un po' un tic della RAI sul quale dovrebbero riflettere sia i cittadini sia il management della RAI. Se la verità la stabiliranno i giudici, la pubblica informazione, la RAI, fa sapere che al momento non ha in programma di occuparsi nuovamente del caso Schiff, nel caso dovessero farlo estenderanno l'invito e che comunque ci tengono a scrivere un po' giustificandosi quando se ne sono occupati di averlo fatto come altri quotidiani e cioè si potrebbe aggiungere in modo incompleto e di parte. Il carattere di Giulio Schiff, ossia sia le sanzioni accumulate, sia l'osservazione del suo comportamento hanno messo inequivocabilmente in mostra un carattere assolutamente inadatto a fare il soldato. Il soldato deve accettare le regole del mondo in cui vive, le deve condividere, deve recepire certi valori, invece in Giulio Schiff era esattamente il contrario, cioè un carattere contestatario, omissivo, pretestuoso, poco guidato da certi valori di riferimento che nelle scuole di volo si cerca di instillare gli allievi. Tutto questo è venuto alla luce dopo un'osservazione durata mesi, naturalmente sia da diretti superiori che erano a contatto quotidiano, sia nella catena gerarchica più in alto. Quindi questi sono i motivi per cui Giulio Schiff è stata dimessa dall'Aeronautica Militare. Dopodiché tutto questo che sta succedendo è soltanto un danno collaterale, è correlato, sono pretesti e ancora una volta in più per giustificare una sconfitta che è stata prima di tutto una sconfitta di un carattere non adatto a stare nelle file dell'Aeronautica Militare. E infine il generale Tricarico ha voluto commentare così il procedimento penale che vede coinvolti gli otto giovani piloti dell'Aeronautica Militare denunciati da Giulio Schiff. Le vere vittime sono loro. Il vostro cammino per diventare piloti è iniziato con un inciampo che rientrerà sicuramente perché la giustizia alla fine, come sempre o quasi sempre succede, emergerà. Io vi auguro che questa giustizia sia rapida e che soprattutto una volta che giustizia sarà fatta, voi possiate pretendere un indennizzo per tutto quello che avete subito. Ecco, io mi auguro che chi poi architetta queste storie apportatrici di danno non la possa passare liscia, cioè non è giusto che non si faccia carico delle proprie responsabilità per aver causato un danno sicuramente molto significativo a questi ragazzi della quale si dovrà assumere la paternità. Le scelte che faranno gli otto piloti saranno naturalmente personali. Certo è che, come abbiamo già detto in altre occasioni, gli anni in cui saranno impegnati in questa triste vicenda non gli verranno restituiti da nessuno.